Abbiamo improntato quattro brani che delineano il nostro stile di suonare, sapete, in forte versione rock. Buonasera tutti! Dalla seconda ci sono alla chitarra Antonio Rasconati, alla sfidessa di San Monica il maestro Meluri, Danilo Meluri, alla batteria Gianni Croce, al santurello il bongalista Geni Spialone, alla batteria, alla voce solista, Elena Zimitano. Passo e voce maschile, Paolo Zimitano. Grazie, buon divertimento. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.